No, è un buon momento arrivare qui in Italia adesso, ho fatto tante partite in Ungheria, nella Serie A ungherese, è un grande momento di arrivare qui, è il giusto momento. Mi piace giocare come centrocampista, è la giusta posizione per me. Allora in Ungheria ho giocato sempre come centrocampista ma su tutti i due i lati, però mi piace questa posizione al centro. Non sono un giocatore molto offensivo, però cerco di farcela tutta e provo a segnare dei gol. Il mister mi aiuta molto, mi piace come fa gli allenamenti e credo che sia un mister molto bravo. E' un giocatore molto bravo. E' un giocatore molto bravo. Cerco di farcela tutta, cerco di impegnarmi, devo lavorare ancora molto, però vorrei giocare nella squadra. Il mister è la scuola, gioco o non gioco.